Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle monete blu della settimana 4 per la stagione 3 di Fortnite. La prima moneta si trova qui a Corso Commercio, in questo negozio. Le monete blu, a differenza delle verdi e delle viola, sono ben nascoste in oggetti di vario tipo che vanno distrutti per rivelare la moneta. La prima moneta si trova qui, Corso Commercio, qui, in questo negozio. Quindi atterrate a Corso Commercio, entrate in questo negozio che ha l'insegna di una carpa, entrate qui e rompete il cervo. Vedete, c'è anche la scintilla blu. Rompete il cervo per ottenere la vostra prima moneta blu. La seconda moneta blu si trova qui, praticamente dove ho messo il segnalino, qui, su questa struttura vicino all'autorità e fattoria frenetica. Quindi, raggiungiamo il posto. La moneta blu la trovate praticamente sulla cima dell'edificio. Tutto quello che dovete fare è distruggere quella sorta di condizionatore, credo che sia un condizionatore, il motore di un condizionatore, collocato sul tetto, per rivelare la moneta blu. Ovviamente, quando vi avvicinate, notate un effetto che richiama appunto la moneta blu. Quindi non potete assolutamente sbagliarvi. Vedete? Una volta giunti sul tetto, rompete questo oggetto per prendere la seconda moneta blu. La terza moneta blu si trova sempre qui, nella casa disco, a Brughiere Brumose. Quindi scendiamo qui e dobbiamo raggiungere l'interno della struttura. Quindi, arrivate qui, Brughiere Brumose, in prossimità di Brughiere Brumose, trovate questa struttura, questa casa tipica, perché, diciamo, è l'unica con i fari sparati in cielo e la musica da discoteca. Quindi entrate dentro e dovete rompere questo stereo per rivelare la moneta blu. Quindi distruggete lo stereo, ci vuole un po', colpite magari i punti deboli. Ed ecco qua la terza moneta blu. La quarta moneta si trova qui, praticamente, al molo, qui, sopra Corso Commercio. Dovete arrivare qui al molo e distruggere una canoa. Il discorso è sempre lo stesso. Una volta che vi avvicinate alla canoa, notate un bagliore blu, significa che è la canoa giusta. Vedete? Distruggete la canoa e avrete la quarta moneta blu. L'ultima moneta blu si trova, praticamente, qui, tra Lago Languido e Corso Commercio, dove ci sono queste due strutture. Non potete assolutamente sbagliarvi. Quindi arrivate qui, ripeto, tra Lago Languido e Corso Commercio. Arrivate qui e dovete distruggere questo, chiamiamolo lampione, questa luce, praticamente. Vedete? C'è il bagliore blu. Quindi distruggetelo e avrete raccolto la quinta e ultima moneta per questa settimana. Grazie per la visione! Grazie per la visione!